... Tutte le note vengono visualizzate attraverso dei gesti. Il metodo Kodai, che sarebbe un metodo che presuppone anche dei gesti, quindi associamo le note ai gesti, così oltre ad avere un ascolto, poi cantiamo, abbiamo anche una visualizzazione e una cosa pratica da fare. Mio Mio Mio, Mio Mio, Mio Mio Mio, Mio Mio. Grazie a tutti. Grazie.